Uomini e donne, Ivan Di Stefano e Gloria Nicoletti si sono lasciati. A Uomini e donne è già finita la storia tra Gloria Nicoletti e Ivan Di Stefano. Una delle coppie più recenti nate dal dating show ideato da Maria De Filippi. La notizia si apprende dal profilo Instagram della dama che, attraverso una storia, ha ringraziato i follower per esserle stata vicini, lasciando intendere di aver scoperto qualcosa sul cavaliere sulla quale non è riuscito a passarci sopra. Solo pochi giorni fa, Ivan aveva annunciato il suo ritiro dalle scene per approfondire la conoscenza con Gloria, mostrandosi seriamente interessato a lei. Uomini e donne, il dating show di Canale 5, ha fatto incontrare Gloria Nicoletti e Ivan Di Stefano che sembravano avere tutte le intenzioni di iniziare una storia seria fuori dal programma ma, a quanto pare, la favola per i due protagonisti è già finita. Dopo una breve conoscenza, Ivan ha annunciato a Maria De Filippi e alla redazione di essere seriamente interessato a Gloria. Dunque, avrebbe lasciato il programma per iniziare una storia con lei ma qualcosa è andato storto. L'idillo tra Ivan e la dama, infatti, sarebbe già finito e, ad annunciarlo ai follower. È stata proprio Gloria che si è detta delusa e amareggiata. La storia tra Ivan e Gloria di Uomini e Donne è giunta al capolinea a pochi giorni dall'inizio e, attraverso una storia su Instagram, la donna ha spiegato ai suoi emiratori come sono andate le cose. Anche se in maniera molto vaga. Nella giornata del 24 marzo, infatti, l'ex protagonista del programma di Maria De Filippi ha pubblicato una storia che non lascerebbe nessuna speranza per la coppia. «Sono rimasta delusa, purtroppo in amore non sono fortunata», ha scritto Gloria. Dopo aver ringraziato i follower, meglio sapere delle verità non belle ora che dopo. Ha continuato, lasciando intendere di aver scoperto qualcosa di Ivan che l'ha delusa profondamente e di non essere disposta a tornare sui propri passi. Il suo per me è già finita non lascerebbe dubbi su un possibile ritorno di fiamma. Ivan Di Stefano è arrivato negli studi di uomini e donne in via Toscolana qualche mese fa e aveva catturato subito l'attenzione di tutti. Anche dell'opinionista Tina Cipollari, lusingata dai suoi complimenti. A pochi giorni dalla sua presentazione al parterre femminile si era ipotizzata anche una possibile conoscenza tra Tina e Ivan. Un fatto piuttosto singolare poiché l'opinionista non ha mai lasciato molto spazio ai cavalieri arrivati in studio per conoscere l'anima gemella. Eppure Ivan aveva colpito l'interesse di Tina che aveva anche ha consentito a lasciarle il suo numero di telefono. Tra i due, tuttavia, la conoscenza non è mai decollata perché all'opinionista non è piaciuto il modo di fare del cavaliere che voleva portare avanti più conoscenze. Mafia, parasiții, dragonu, maxi, gespe, chimie, rimaru, spike, buia, si, swapo, grasul, nimeni altu, te-l vedeți sau carpo. Trai să vă mănânci vers cu vers card intens, trai să crezi, crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor, de zici că mă barc cu boss-ul. La câte urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie, când adun cuvinte din domn, mă pun, le pierd la o mie de grade Celsius, să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie unul.